Il bello e il cattivo tempo, arriviamo al Teatro dei Servi a incontrare degli amici che già abbiamo trovato con Mr. Apolloni, lui è bravissimo, e Cristian Marazziti che sono lo zoccolo duro di dei compagni di banco, con due nuventri, Nicola Azzurro e Cristiana Vaccaro. Allora, dalle due nuventri, ci facciamo raccontare velocemente compagni di banco. La trama? No, la trama non posso, non me la sento. Non te la sento? Allora mi racconti del prossimo spettacolo. Io ti racconto altre cose. Perché lei la trama non la sa. Non la sa. Ma un po' così a culo, capito? Sentiamo. Si serve. Si serve. Allora, io entro, poi chi c'è c'è, quello che dico, dico. Ma è bello così, ogni sera è una cosa di vero. Esatto. Ma che noia. No, lei, adesso vi spiego come studia Cristiana Vaccaro. Cristiana Vaccaro non ripena, no, lei legge. In silenzio. Perché ho memoria visiva. A me lei dice, lei dice che ho memoria visiva. Poi entra e va un po' a culo. Ogni sera succede qualcosa. Quindi questo spettacolo bisogna venirlo a vedere. Per tutte le repliche che sono fino all'8 maggio. All'8 maggio. Perché ogni sera succede qualcosa. E il sabato pomeriggio anche. E il sabato pomeriggio, mi raccomando. A volte anche qualcuno di noi viene. Pomeridiana è serale, sabato. Pomeridiana è serale, sabato. C'è il caso di sostituzioni, capito? La sera c'era una, la sera c'era un'altra. È una sorpresa contente. Quindi venire tutte le sere. Perché ogni sera lo spettacolo è diverso. Ci parliamo tutti addosso. Tre parole, la storia qual è? A chi non l'ha visto. C'è un disperato, si vede chi è. Una parola. Che si sta buttando dal ponte di Ponte Sisto. Si sta perso e viene salvato da un passante. Il passante. Chi è il passante? Aspetta, è un passante. È una compagno. Adesso è il passante. Ma io me ne vado. Aspetta, aspetta. Il passante. Dopo 5 ore si scopre che sono i compagni di banco. Il compagno di banco. Mi porta a casa sua. Dove c'è la sorella. La sorella. Un po' nervosetta. Un po' signorina Rottermeier. Il figlio. Gli ha messo al centrino. Ma nasconde un segreto. Trasciato. Puntini, puntini. Puntini, puntini. Spieghiamo da un certo punto. Lei mi porta a casa. E son buona sorpresa. Non parla. Se vede che è una sorpresa. No, lei parla molto peggio. Allora parlo davvero? In tutto questo il rapporto tra padre e figlio, tra Lorenzo e Francesco, è pessimo. Però poi? Poi, chissà. Magari le novità portano un po' d'allegria. Dunque, lui salva me e forse io salvo lui. Non si ha capito niente. Ci salviamo un po' tutti alla fine. Niente. Però, per sapere chi salva chi e come va a finire, dovete venire al Teatro dei Servi fino all'8 di maggio. No, voglio dire, se voi credete alle favole, dovete venire a vedere questa fantastica commedia romantica. Si ride anche moltissimo. Certo, commedia romantica. Beh, però, si ride anche moltissimo. Non sembra ora da questa performance. No, non sembra. Non sembrerebbe. Niente, tutto così. Si ride e si sta bene. Veramente. Alla grande. Vi aspettiamo. Ciao. 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 Ciao.